Si sono consumate le prime frizioni con De Luca sulla questione Capodanno, ieri sembrano rientrate, che si farà? Adesso noi valuteremo giorno per giorno l'andamento della pandemia, quindi chiaramente è una fase molto delicata perché stiamo in bilico tra una propagazione del virus e la capacità di contenerlo, dobbiamo vedere anche l'impatto che ci sarà del Super Green Pass, quindi poi decideremo più avanti in relazione a quello che sarà l'andamento della pandemia. Ieri l'assembramento davanti al San Carlo non è stato un buon auspicio? C'è stato un deficit organizzativo e quindi c'è stato troppo assembramento, adesso non so esattamente quali sono stati i motivi di quell'assembramento, bisogna essere più attenti rispetto a questi problemi. Ma vediamo che siamo poi gli ispettori per questa cosa di qua, no? Vabbè, questo non posso giudicare, il suo ruolo è quello di controllare la salute pubblica, quindi se l'ho fatto ha ritenuto che fosse utile farlo. Comunque, indipendentemente da questo episodio, che sicuramente va sottolineato, bisogna dire che ieri sera è stata una bellissima serata per Napoli e c'è stato un film straordinario che racconta una storia importantissima per la città, iconica per la città, che è quella della famiglia De Filippo. è un film veramente molto bello e emozionante.